Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della serie in cui stiamo andando a imparare il linguaggio C Sharp In questo episodio andremo a imparare cosa sono le variabili Innanzitutto apriamo questo piccolo schema che ci mostra i tipi di variabili principali del linguaggio in C Sharp Questa tabella vediamo che è suddivisa in Type e Default Value Default Value è il valore appunto di Default che hanno le variabili appena le dichiariamo Poi più avanti nel video capiremo come si dichiarano E invece in Type vediamo tutti i tipi di variabile Possiamo vedere che la prima è All Integer Type Ovvero è un tipo numerico che può avere valori senza la virgola Quindi può avere valore 1, può avere valore 15, può avere valore meno 980 Il secondo tipo è Char Type Il Char non è altro che un singolo carattere Per esempio un punto di domanda o una lettera E il suo valore di default è vuoto Poi saltiamo tre di questi tipi perché non sono principali Andiamo al Float Type Il Float Type è uguale all'Integer Però può avere delle cifre dopo la virgola Quindi possiamo avere come valore 5,7, possiamo avere meno 782,10 eccetera Poi abbiamo il tipo Boolean Ovvero Boolean che di default ha un valore false E questo tipo di variabile possono assumere solo il valore di true o false Quindi vero o falso Questo tipo di variabile si usa principalmente per delle condizioni Ad esempio ipotizzati in un videogioco Se l'utente preme un tasto quindi true o false Allora eseguiamo una determinata azione Infine un altro tipo che qui non è mostrato È il tipo string Che di default come il char è vuoto E le variabili di tipo string Possono contenere delle scritte Quindi delle string Per esempio un nome Per esempio un numero di telefono Oppure un'intera frase Bene ma andiamo a vedere in particolare in C Sharp Come si utilizzano e perché sono molto utili Innanzitutto cos'è una variabile? Una variabile immaginatela come una scatola Come un container Che può contenere dei valori E può variare nel tempo Quindi riportiamolo nel mondo reale Una variabile potrebbe essere la nostra età Perché in un determinato anno La nostra età ha un certo valore Mentre l'anno dopo avrà quel valore più 1 Siccome siamo cresciuti di un anno Su Visual Studio Code ho ancora aperto il programma Che abbiamo creato nel primo episodio E andiamo a modificare questo programma Per vedere come funzionano le variabili Ad esempio qua possiamo vedere Che noi inseriamo il nostro nome Ad esempio qui nella riga 12 Noi chiediamo come ti chiami all'utente E l'utente poi inserirà il suo nome In questo caso il suo nome non viene salvato da nessuna parte Noi invece lo vogliamo salvare in una variabile Qual è la variabile adatta a questo caso? Siccome è un nome Quindi contiene delle lettere La variabile più adatta è la variabile di tipo string Quindi una stringa Per salvare il nostro nome in una variabile Innanzitutto andiamo in alto nel main E dichiariamo la stringa Quindi la variabile string E gli diamo il nome name String è il tipo di variabile Quello che viene dopo string È il nome della variabile che può avere qualsiasi nome In questo caso l'ho chiamata name Voi la potete chiamare nome La potete chiamare pippo eccetera Le variabili quindi possono avere qualsiasi nome Come facciamo ad andare a salvare il nome Che l'utente inserirà in questa variabile? Semplicemente scriviamo name Che è la nostra variabile Gli andiamo a dire che è uguale Quindi gli andiamo ad assegnare un nuovo valore Ed è ciò che inserirà l'utente tramite questo comando Andando ad avviare il programma Non cambierà assolutamente niente Infatti ci chiederà il nome Noi diciamo Mauro E il programma continuerà come funzionava prima Per vedere la differenza però Per esempio possiamo inserire Che il nostro programma saluta il nostro utente Come facciamo? Qui dove c'è scritto write line Io sono un programma scritto in C sharp Sopra questa linea andiamo a scrivere console.write line E scriviamo ciao Mettiamo uno spazio prima di chiudere le virgolette Successivamente aggiungiamo un più Questo più semplicemente con catena E due Con catena due string E andiamo ad aggiungere name In questo modo L'utente qua avrà inserito il suo nome in una variabile E noi andremo a scrivere ciao Più questa variabile Avviando il programma ci chiederà come ci chiamiamo Noi scriviamo Mauro E vediamo che il programma ci dice ciao Mauro Io sono un programma scritto in C sharp Perché sono utili le variabili in questo caso? Perché se noi avessimo semplicemente scritto qui ciao Mauro Quindi senza inserire la variabile Il nostro programma ci avrebbe sempre mandato a schermo Ciao Mauro Ma se il nostro utente avesse inserito un nome diverso da Mauro Avrebbe comunque visualizzato sempre il nome Mauro Invece tramite una variabile Quindi come era prima Qualsiasi nome l'utente inserisca Gli verrà visualizzato dal programma Andiamo ora a vedere per esempio il tipo di variabile integer Quindi in C sharp si dichiara scrivendo int Che è il tipo di variabile Ovvero una variabile numerica Come ho già detto in precedenza E andiamo a chiamare questa variabile age Che significa età Voi la potete chiamare age La potete chiamare età La potete chiamare come volete Quest'età possiamo andare a dire che prima che L'utente inserisca il suo nome Possiamo andare a scrivere che L'age è uguale a 5 Quindi impostiamo l'età su un valore di 5 Dopo che l'utente ha inserito il suo nome E dopo che l'abbiamo salutato Possiamo andare a scrivere A schermo l'età dell'utente Quindi console.brightline E andiamo a scrivere La tua età La tua età è Più Aggiungiamo la variabile age Ecco qui che il programma ci chiede come sempre Il nostro nome Andiamo a inserire questa volta per esempio Pippo Ciao Pippo la tua età è 5 Perché ci stampa 5? Perché noi in questo codice Abbiamo scritto che l'età è uguale a 5 Se noi dopo un po' andiamo a modificare l'età Quindi dopo che noi la stampiamo Andiamo a dire che age è uguale a 17 Alla fine di tutto Possiamo andare a ristampare la nostra età Quindi scriviamo Console.read.brightline E andiamo a scrivere Console.brightline La tua età è ora di Più l'age Cosa vi aspettate che stampi il nostro programma? Se tutto funziona ci dovrebbe prima stampare che la nostra età è di 5 Dopo dato che noi abbiamo modificato l'età a 17 Ci dovrebbe dire che la nostra età è 17 Quindi come sempre come ti chiami Andiamo a mettere Pippo Ciao Pippo la tua età è 5 Io sono un programma scritto in C Sharp Di dove sei mettiamo Italia E possiamo vedere che adesso ci dice che la nostra età è ora di 17 Siccome qui l'abbiamo modificata Bene per questo video è tutto Ovviamente è impossibile imparare appieno il concetto delle variabili con un solo video Mano a mano che però andremo avanti nella serie Imparerete sempre di più l'utilizzo delle variabili e perché sono fondamentali quando si programma Per qualsiasi domanda mi potete lasciare un commento Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi E noi ci vediamo al prossimo video E noi ci vediamo al prossimo video